buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in questo video voglio farvi vedere come io realizzo gli spaghetti alla nerano questa ricetta ho dovuto aspettare tantissimo per realizzarla perché in germania non trovo il provolone del monaco o meglio si può trovare però è molto complicato dove ordinarlo su internet perché nei supermercati non si trova quindi ho dovuto aspettare di venire in italia per poter realizzare questa ricetta e trovare tutti gli ingredienti che mi servivano appunto per realizzarla e portarvela sul canale questa è la cucina dove tutto ha avuto inizio circa dieci anni fa e che dire adesso vi metto subito all'opera vi faccio vedere gli ingredienti che utilizzeremo per realizzare la ricetta e andremo subito alla preparazione venite con me fondamentalmente abbiamo bisogno di zucchine e provolone del monaco che sono gli ingredienti principali poi gli spaghetti mi raccomando utilizzate gli spaghetti buoni quindi di gragnano e trafilati al bronzo se non li avete di gragnano almeno trafilati al bronzo dell'olio extravergine d'oliva per il soffritto dell'olio extravergine d'oliva per la frittura delle zucchine basilico sale grosso e del pepe nero macinato questi sono fondamentalmente ingredienti che servono per realizzare una nerano perfetta e tradizionale adesso mi metterò subito ai fornelli la prima cosa che vado subito a fare è quella di accendere il gas l'olio d'oliva lo imposto a temperatura bassa perché deve andare piano piano dovremo raggiungere più o meno di 160 180 gradi quindi torniamo alle zucchine tagliamo la parte frontale è quella finale poi cerchiamo di effettuare un taglio abbastanza regolare e con uno spessore di circa 3 mm c'è in questo modo un taglio di questo tipo sapete una mandolina farete giustamente prima e avrete un taglio molto più regolare le dosi e gli ingredienti per quattro persone li troverete in descrizione come sempre adesso continuo con il taglio fin quando ho terminato tutte le mie zucchine per vedere se l'olio è arrivato a temperatura potete utilizzare sempre uno stuzzicadenti e andate a vedere se sfrigola in questo caso inizio a sfrigolare quindi possiamo andare ad inserire le nostre zucchine in questo caso non aggiungo tutte le zucchine in una volta altrimenti abbasserebbe di troppo la temperatura dell'olio ci vorranno all'incirca dai 5 ai 7 minuti una frittura molto delicata deve essere intanto che le zucchine friggono vado a prepararmi il contenitore per andare a scolarle che faccio nel contenitore vado a mettere delle foglie di basilico spezzettate questo conferirà alle nostre zucchine dato che quando le andiamo a levare dall'olio sono ancora molto calde andrà a liberare i profumi del basilico che quindi andranno appunto a legarsi con con la zucchina così può bastare e adesso aspetto che la prima frittura sarà pronta e andrò a posizionarla sulla carta assorbente dato che dobbiamo aspettare un po per la frittura vado a grattugiare il provolone del monaco perfetto così va benissimo dopo averlo grattugiato lo mettiamo da parte andiamo a vedere a che punto sono le nostre zucchine iniziano a prendere colore iniziano a colorarsi ma ancora non sono pronte per essere levate devono iniziare a scurirsi leggermente a quel punto saranno pronte per essere per essere scolate ok ci siamo questo è il livello di frittura ideale adesso possiamo andarle a trasferire sulla carta assorbente in questo modo diciamo che andremo a fare una piccola se così si può chiamare marinatura un po di pepe nero e un po di sale fino le condiamo leggermente mescolo e continuo così con tutte le zucchine allora c'è un profumo eccezionale le zucchine sono belle dorate poi hanno preso il profumo del basilico il pepe il sale guardate una cosa davvero spaziale io vi consiglio di farle così adesso sto continuando a figgerle all'interno della d'oriva e appena saranno tutte fritte andremo alla seconda fase della preparazione io intanto ho messo già a bollire l'acqua per la pasta ogni volta che aggiungo delle zucchine vado di nuovo a mescolare il tutto diciamo la nostra marinatura appunto per far prendere questo vapore di basilico a tutte le zucchine mi raccomando non dimenticate questo passaggio perché è fondamentale calo gli spaghetti vado con l'aglio lo schiaccio e vado all'interno della padella olio d'oliva e faccio rosolare leggermente una volta che l'aglio inizia a rosolare con la camicia vado a trasferire gli spaghetti all'interno adesso vado a risoltare la pasta con dell'acqua di cottura l'aglio posso rimuoverlo la pasta rilascerà tutto il suo amido all'interno della padella e andrà a crearmi la cremina vedete come sta già formando la crema spettacolare a cottura quasi terminata aggiungo le zucchine all'interno faccio amalgamare bene tutti i sapori spengo il fuoco e adesso vado con la mantecatura parte fondamentale della ricetta vado col provolone del monaco una parte poi mescoliamo con un mestolo dobbiamo giocare un po con le consistenze e con il calore adesso vado con altro polone del monaco un altro po di acqua di cottura e mescoliamo adesso prendo due belle fogliolone di basilico le metto dentro così guardate che crema una bomba allora ragazzi grazie a tutti per aver visto il video fino a questo punto che dire se il video vi è piaciuto lasciate un bel like se il canale vi piace iscrivetevi e come sempre noi ci vediamo in un prossimo video la prossima settimana ciao a tutti grazie a tutti